E Medfarm sia, andiamo con il PRP. Doctor, ci siamo? Sì, sì, sono entrato in Italia da qualche giorno, subito per la T. Oh mamma, mamma! Tutto a posto, sono qui, adesso vedete un po' di... vedete questi puntini rossi? Perché mi diceva appunto il dottore che questo è l'effetto, ma che poi piano piano svanisce questi piccoli pomfi, poi piano piano andranno via. Dopo aver centrifugato il sangue, otteniamo quindi la parte che non ci interessa, che è questa dei globuli rossi. Il gel separatore, che è un gel che ci consente di ottimizzare la quantità di plasma, arricchito in piastrine. E quindi recuperiamo il plasma e poi lo iniettiamo in maniera molto superficiale.